Un caro saluto a tutti. Dobbiamo ora considerare che cosa significa per noi quel gesto di Cristo che si offre nel segno del pane e del vino. E quale sarebbe la nostra risposta ideale a tale offerta? Il pane e il vino sono offerti a noi, ci vengono dati come segno di comunione. Lo sono realmente. Nel suo offrirsi Gesù entra veramente in comunione con noi perché ha assunto Egli che era il verbo di Dio ed era Dio, ha assunto la nostra natura umana e ha abbracciato tutta la condizione umana condividendone la precarietà, i bisogni materiali, il cammino di coraggiose scelte nella libertà, le sofferenze morali della indifferenza, dell'avversione ingiustificata, del tradimento, e dell'abbandono, il dolore fisico in tutta la sua potenza distruttrice e persino alla morte. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè nella sua carne si è addossato le conseguenze del peccato, del nostro errare lontano dal Padre e vittime della nostra stessa insufficienza. Ma questa vita umana Egli l'ha vissuta in perfetta obbedienza al Padre. Vale a dire che la stretta consonanza di bene e di amore nello Spirito che lo unisce al Padre è stata sofferta e accettata nella sua natura umana, la quale imparò l'obbedienza dalle cose che patì. L'obbedienza di Cristo uomo fu difficile fino al limite estremo. Pensiamo alla preghiera di Gessemani. Padre, se voi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Luca 22. E tuttavia non si tratta affatto come siamo tentati di pensare, di subire un'autorità pesante, sgradita, perché si tratta di amore. Ed esattamente l'amore vero, sincero, totalmente fiducioso, libero e profondamente convinto di chi è cosciente della propria identità di figlio e dell'amore indiscutibile del Padre. E qui possiamo ora capire il secondo punto che ci siamo proposti di chiarire, cioè quale deve essere la nostra risposta ideale. Bisogna ricordare che nell'ultima cena non solo Gesù disse ai Suoi fatti questo in memoria di me, ma diede anche un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Giovanni 13. Si tratta di accettare la comunione che ci viene offerta, con una comunione di vita nostra con la vita di Cristo. la chiave di lettura sta tutta in quelle parole, come io ho amato voi. Bisogna poi approfondirle. Alla prossima volta.